Ci siamo visti tre mesi fa e lanciavamo il problema dell'autonomia differenziata. Mi sembra che le forze politiche siano un po' sorde a comprendere il problema. Il Movimento 5 Stelle fa la sua battaglia, ma mi sembra che nessuno abbia veramente capito all'interno delle forze parlamentari quello che possa essere il danno dell'autonomia differenziata. Mi sbaglio Emma Pavanelli? Il Movimento 5 Stelle sta portando avanti a livello territoriale in questo momento infinite assemblee per parlare di autonomia differenziata. Questo perché noi vediamo il pericolo con questo decreto Calderoli che va in realtà a essere la cesessione dell'Italia, delle 20 regioni. Questo perché se andiamo a vedere le 23 tematiche che oggi, anzi anni fa, il Veneto ha richiesto per l'autonomia differenziata, ma ci sono poi quelle richieste dalla Lombardia e le 16 dell'Emilia-Romagna, vediamo che sono tematiche che oggi in realtà sono tematiche nazionali. Faccio un esempio semplicissimo. Se parliamo oggi con la crisi energetica che abbiamo, sappiamo che è e deve essere una tematica nazionale. Perché? Perché riguarda la sicurezza nazionale. Sfido chiunque di noi a vivere senza energia elettrica e ci ritroviamo che appunto il Veneto chiede di poter gestire in completa autonomia l'energia elettrica. Allora, se facciamo ricadere questa tematica sulla nostra Umbria, e io ogni giorno incontro investitori, imprese che fanno rinnovabili, quando chiedo qual è la situazione dell'Umbria, mi dicono tutti che non è possibile fare transizione energetica in Umbria, non è possibile fare investimenti. Questo perché la regione è completamente ingessata, abbiamo una sovrintendenza che blocca tutti i possibili progetti di impiantistica, nonostante il fatto che oggi sappiamo che sia la linea che dobbiamo perseguire, che tra l'altro porta posti di lavoro a livello locale, e questo per noi è importante, visto il grande numero di Umbri che vanno via, e ci rendiamo conto che se anche la nostra Umbria ovviamente ricadrebbe in questa autonomia differenziata, da dove prendiamo la nostra energia? Ecco, questo è uno dei temi, ma sono 23 tematiche e lascerebbe a livello nazionale praticamente solo la giustizia. Questo significa uno svuotamento dei ministeri e tra l'altro ci rendiamo conto che all'interno della maggioranza oggi possiamo pensare che evidentemente ci sarebbero dei problemi perché abbiamo Fratelli d'Italia che da una parte è molto governista e abbiamo la Lega che invece preferisce fare questa cesessione del nostro Paese. Sfido, ripeto, chiunque a pensare se la nostra Umbria, che è prevalentemente di anziane, come abbiamo visto dagli ultimi dati, di pensionati, che non ha un'economia fiorente come magari può avere appunto la Lombardia o il Veneto, di poter prendere grandi decisioni per tematiche come l'export, come altre tematiche senza i fondi che poi provengono dal governo centrale e nazionale.